Dov'è giudato sì credo? ... ... bello hai visto un video? oh wow so bello non ci sono i miei ahahahah ahahahah oh wow look at that oh wait ora ora faccio il cuore mamma è qui? Queda la arma Dari le scefone Quello No Vittor No Vini Vittor non è un'occhietto no, è un'occhietto e ho, non è una ucchietto quando il nostro corpo è un'occhietto non è un'occhietto chi ha il corpo è inizio? chi ha il corpo? come qui? non, non non è un'occhietto non è un'occhietto che vanno Si, non è così riuscita. Oh, wow. Un'esercito, non è sempre? Un'esercito. 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 Sì, è così. È così, è bello. Mi ha fatto un bucchi. È un bucchi che ha fatto, e poi ci sono un bucchi. Wow, look at that. Voi guarda come, vieni! C'è un mongifliette Vieni come, vieni! Vieni! Vieni come, vieni! Via scendere! è un obedeo si è un amico è un amico è un amico è un amico ok, è un amico i amici è un amico molto felici è un amico è un amico Oh my gosh, wow! Oh my gosh! Freak to bed, boy! Hahaha Come on, baby! Come on, baby! It's beautiful! Come on, man! Baby, baby! You're not obedient, you know? Yeah, baby! Beautiful, baby! I'm so excited! Grazie a tutti.